Ci siamo, è venerdì e c'è Polifemo. Una puntata ricchissima, tanti argomenti, ma tante sono le sensibilità a cui cerchiamo di dare risposta. Incominciando dalla visita del console della Federazione Russa di Puglia qui a Taranto, Michele Bolettieri ha incontrato l'Arcivescovo, ha incontrato i rappresentanti di Confcommercio, ha incontrato il sindaco ed il prefetto. Poi altre parti di Polifemo, interviste all'Arcivescovo sulla questione ILVA, il rapporto tra lavoro e salute, la questione immigrazione. E poi ancora un'intervista al consigliere comunale di Taranto, Massimo Battista, che ha lasciato il Movimento 5 Stelle, ci spiega le sue ragioni. E poi una parte che vede protagonista il comune di Leporano con il premio Satirion per l'archeologia e l'iniziativa bellissima Faggiano in rosa. Un Polifemo ricchissimo. State con noi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS